Giovanissimo il pusher, 17 anni di Loreggia, giovanissimi e quasi tutti italiani i suoi clienti di Ashish, scoperti dalla polizia locale della federazione del campo san pieresi in uno dei parchi cittadini. Il minorenne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di droga, come disposto dal tribunale dei minori di Venezia. Sequestrata tutta la sostanza stupefacente, 16 grammi, insieme a 110 euro e il materiale per la preparazione delle dosi. Il 17enne, seduto su una panchina del parco, era un punto di riferimento, ma dopo varie segnalazioni l'arrivo di una pattuglia di agenti ha scatenato la sua fuga e quella dei suoi clienti. Il baby pusher è stato visto disfarsi di un involucro di cellofan con una quindicina di grammi di Ashish. Una volta rintracciato ha confessato il possesso della droga per uso personale per alcuni amici. Inevitabile la denuncia, è la seconda per spaccio in una settimana, chiesta dalla Polizia Locale della Federazione alla Magistratura. È l'ottavo sequestro di sostanza stupefacente nell'ultimo mese.